I testi storici, i ricerchi di critici d'arte e di architettura hanno testimoniato la qualità, lo sviluppo, l'evoluzione e la complessità di questo impianto che racchiude un sosseguirsi di continue vicende umane che hanno segnato la storia non solo di Cosenza, ma anche della Calabria e del Mediterraneo. Quando mi è stato detto di Cosenza io non conoscevo nulla, il primo impatto è stato con la cattedrale, questo monumento stupendo, straordinario all'arte, alla cultura, alla fede. La storia è molto complessa per un motivo semplice, si è ritenuto che la cattedrale fosse stata impiantata sul colle Pancrazio, ultimi ritrovamenti avvenuti nell'area presbiteriale della cattedrale hanno fatto propendere per la presenza di resti che arrivano di età paleocristiana, quindi 4, 5 secolo, 6 secolo dopo Cristo, fanno propendere per un impianto già esistente, per cui il terremoto del 1184 che avrebbe distrutto la cattedrale sul colle Pancrazio è da ritenere che sia stato deleterio per quanto riguarda l'impianto già esistente nel luogo dove noi ci troviamo. Non ci sono conferme storiche, effettive, circa l'effettivo stato di appartenenza del sito e il rapporto all'originaria cattedrale, quindi bisogna ancora attendere i prossimi studi che saranno effettuati per comprendere ancora di più il significato, l'impianto e il sito della cattedrale. Questa cattedrale è nata come primo esempio di gotico cistercense e difatti quando è stata consacrata era il segretario di Gioacchino da Fiore, Luca Campano, che era vescovo e quindi ha invitato tutti gli altri. Poi è stata trasformata in barocco, c'è stato un periodo in cui il barocco marmi eccetera e hanno cancellato tante immagini, tante tracce di questo passaggio che adesso sta ritornando man mano attraverso piccoli segni però sta tornando e come abbiamo qui proprio sotto questi vuoti qui abbiamo l'antica chiesa, l'antica cattedrale. Per noi significa ritrovarci intorno alla chiesa madre come in ogni paese la chiesa è un po' il punto di riferimento di tutti. Gli apparati neoclassici con compendi barocchi trasformati e modificati non hanno fatto altro che segnare quello che era un passaggio ideologico di una società che aveva bisogno di autoreferenziarsi. Quando parliamo della cattedrale dobbiamo fare riferimento a una serie di elementi come per esempio il fatto che siano stati inumati molti reali e molte persone legate alle dinastie regnanti nella stessa cattedrale. Quando si parla del mausoleo di Isabella d'Aragona, quando si parla di Filippo III cosiddetto l'Ardito, figlio di Luigi IX di Francia, detto il Santo, che è stato canonizzato, tra le altre cose. Quando parliamo di Luigi III d'Angio, quando parliamo di Margherita di Savoia, quando parliamo dei fratelli Bandiera, quando parliamo di Bernardino Teleso che è stato un faro nel campo della filosofia a livello internazionale europeo, significa che stiamo parlando di un sistema qual è la cattedrale che racchiude questo tesoro di rivoluzione e questi aspetti fondamentali legati a personaggi che hanno segnato la storia dell'Europa che dovrebbe essere sostanzialmente rivalutato perché non è l'impianto in sé soltanto collegato al luogo di culto e di rivoluzione necessario ma è soprattutto un riferimento complessivo e completo sotto tutti gli aspetti legati all'evoluzione della storia dell'Europa. Devo dire con molto piacere che ci sono eminenti studiosi architetti della superintendenza dell'Università della Calabria che stanno procedendo ad eseguire una serie di analisi e di valutazione complessive per rimediare a quelli che possono essere le necessità di un impianto che ha otto secoli e ancora riusciamo a goderne e a fruirne la qualità e la composizione. Quindi come tutti gli impianti ha bisogno di essere seguito costantemente, attenzionato e operare con gli interventi che risultano necessari per il mantenimento. Ma questa è nella logica delle cose che hanno cose tra virgolette come la cattedrale, cioè delle strutture realizzate dall'uomo che hanno bisogno di essere perpetuate. Quindi è un elemento conseguenziale, necessario e doveroso. Sicuramente usciranno degli elementi interessanti che consentiranno di approfondire ancora più il tema e il significato di questo impianto. Si dice che le sorprese non finiscono mai. Quanto più un organismo è datato, quanto più un organismo è stato vissuto, quanto più un organismo ha continuato a vivere, a perpetuarsi, tanto più si riescono ad esumere quelli che sono gli elementi caratterizzanti e gli elementi indicativi di questo processo evolutivo, continuo e costante che non finirà mai quello che si riesce a trovare e in parte ancora visibile. Vicino all'ingresso della sagrestia si trovano tracce di affresti. Questi sono emersi successivamente a dei lavori di recupero degli intonaci e di pitturazione interna eseguite dalla soprimendenza e di conseguenza sono stati lasciati perfettamente intatti perimetrandone quello che era la dimensione evidente ed effettiva, ciò per poterli recuperare in fase successiva, quello che sta avvenendo adesso. Questa è una sorpresa bellissima perché riguarda degli elementi artistici di età medievale che potranno dare ancora più degli elementi di valutazione e di conoscenza sull'impianto, non dico originario, ma comunque in fase evolutiva. Noi ci stiamo preoccupando di non mortificare l'arte, la storia, però queste pietre devono parlare, devono essere riempie. Questo tempio è bello quando si riempie di persone, è dei fatti così, è silenzioso, ma quando si riempie di persone è vibrante, è veramente una cosa straordinaria. Il 30 gennaio apriremo la Porta Santa perché ci sarà concesso un anno di giubileo per la cattedrale. Sono passati 800 anni e una delle cose più belle che la persona possa avere, un cristiano possa avere, è la remissione dei peccati. E anche la cancellazione dei peccati attraverso la misericordia di Dio. Ora questo è un modo, questo passaggio, è un modo per dire che passo dal peccato alla grazia, passo da una vita superficiale a una vita impegnata, passo da una vita magari solitaria, egoistica, individualistica, a una vita dove tutto si condivide, l'Eucalistia è proprio condivisione di tutto quello che noi abbiamo come grazia di Dio. Allora questo passaggio simbolico diventa anche, speriamo, un passaggio di vita, una conversione di vita. Allora questo passaggio simbolico diventa anche, speriamo, un passaggio di Dio.